Il mio discorso va alla grande online. La cartilagine va forte, grazie a me. Non potrei essere più felice. Un laboratorio per la rigenerazione della cartilagine darebbe lustro all'ospedale. Non sono un bancomat, ho un voto proprio come te. Ah, e come Arizona. Oh no, Arizona vota per me perché è mia moglie e il tuo voto vale un voto e mezzo. Io votevo per me, perciò questo è un bel pacchetto di voti. Ma per quanto riguarda... Funziona così? Durante le riunioni vi bisbigliate i vostri progetti del cuore e i soldi vanno lì? Funziona proprio così? Non funziona così. Tutti sottopongono i propri progetti per iscritto. Non si disturbano i membri del consiglio mentre cercano di lavorare. Ma tu sei seduto. Voglio fondi per gli orfani, un programma a livello mondiale. Visto che hai fatto?